La Fondazione Arezzo in Tura ha iniziato le procedure per organizzare l'edizione 2024 di Arezzo Città del Natale che tra le varie iniziative vedrà la proposta di un mercato delle arti che si svolgerà all'interno del grande villaggio di Natale aperto dal 16 novembre al 6 gennaio 2025. È stata così aperta una manifestazione di interesse rivolta agli espositori interessati alle casine di legno che verranno allestite nell'area del prato. Le domande dovranno pervenire entro lunedì 23 settembre 2024 alle ore 14 tramite il modulo disponibile sul sito internet della Fondazione Arezzo in Tura a partire da venerdì 6 settembre. Nel caso si voglia manifestare l'interesse a più casine per attività diverse sarà necessario compilare una domanda per ciascuna delle attività proposte specificandone la tipologia. Costituiranno elemento di preferenza nell'assegnazione l'essere soci della Fondazione Arezzo in Tura al momento della domanda e l'anzianità di associazione, la partecipazione alle precedenti edizioni, la sede dell'attività nel Comune di Arezzo ed ancora la valorizzazione di prodotti del territorio e la minimizzazione dell'impatto ambientale, la correttezza dei pagamenti e dei comportamenti tenuti negli anni precedenti. Per le attività alimentari sarà data priorità ad una casina esclusivamente gluten-free e una vegetariana vegana. Il periodo di apertura sarà indicativamente dal 16 novembre 2024 al 6 gennaio 2025. L'orario e le date di apertura definitivi saranno comunicati entro il 18 ottobre 2024.